Questo lo dedico a chi dice che oggi a Firenze è in corso una robetta, sfigati, a Verne di piazze come la vostra. Portate il saluto di Firenze a chi è rosicare a casa sua a Rignano. Io vi ringrazio, sarò al fianco di Massimo per restituire i padovani, lo corrego su una cosa. Allora, Firenze non è una città comunista, Firenze è abusivamente occupata da qualche bugiardo che manderemo a casa il prima possibile. Firenze non è Matteo Renzi, la Toscana non è Matteo Renzi. È altra roba. Grazie ai toscani che sono qua, siamo qua per voi.